Ciao, sono Andrea Portoghese e sono all'interno del mio negozio di telefonia a Cagliari. Se vedi questo video è perché sei iscritto alla mia lista Wish Local e sono il fondatore della prima e forse unica community in Italia di Wish Local. Ci occupiamo, di cosa ci occupiamo? Ci occupiamo di ricezione e spedizione pacchi per conto di altri corrieri. Come puoi vedere qua, questa è la mia sezione di pacchi, questo, ripeto, è un negozio di telefonia, e qua mi occupo di telefonia da 15 anni. Sono il negozio più vecchio a Cagliari e forse in Italia, di Tiscali, di Lincoln e da poco tempo mi occupo anche di Sky TV, Sky Wi-Fi e inoltre faccio anche Speedpack e firma elettronica qualificata. Questa è la mia sezione di ritiro di pacchi e questo sono vuoto perché ho consegnato tutto, ci sono i pacchi che i clienti vengono a ritirare. Ma oggi ti voglio parlare di una cosa perché ci sono i voucher del MISE grazie al PNR, quindi il piano nazionale di resistenza e resilienza, che ti permette di avere della fibra anche a 9,17€ al mese per 48 mesi con attivazione, modem, senza vincoli, tutto compreso. Tu pagherai solo 9,17€ al mese, le bollette sono bimestrali, quindi ogni due mesi tu riceverai 18€, il modem è che ti metterà Tiscali è questo qua, ok, con l'adattatore, ricordati che dipende dalla copertura perché se tu sei in un piccolo centro abitato in cui non c'è la 2.500 MB, questa è la 2.5, ok, non avrai questo voucher ma avrai magari un voucher da 11€ o da 13€, dipende dalla copertura. Se hai la 2.500 MB, quindi la 2.5 GB, la 1 MB, la 200 MB e la 100 MB, ma tu rispondi a questa mail con il tuo indirizzo, il tuo nome, il tuo cognome, dimmi se hai già una linea attiva, se hai Team, Vodafone, Fastweb, Tiscali, un altro operatore, tu mi rispondi a questa mail e con i tuoi dati e io ti dico che tipo di copertura hai tu e lo vediamo assieme. Ok, ricordati che questi voucher stanno per terminare, già in altre nazioni, già in altre regioni, sono stati tolti e poi sono stati rimessi perché si sono stati ribilanciati praticamente i piani da altre regioni che avevano poche richieste, li hanno mandati nelle regioni, soprattutto del nord, che avevano terminato i fondi. Io ho fatto tantissimi video, lo trovi sul mio canale YouTube, lo trovi sul mio canale YouTube, ho fatto tantissimo video di questo argomento qua, se non sei ancora iscritto sul mio canale YouTube, iscriviti sul mio canale YouTube per essere sempre informato, per richiedere il voucher mi serve il tuo documento di identità, la tua testa sanitaria, la tua email, il tuo cellulare, la tua PEC, il tuo IBAN, la tua visura camerale perché mi serve il REA, il codice ATTECO, la partita IVA, l'intestazione, comunque trovi tutte le indicazioni scritte in questa mail qua. Quindi mi sembra di averti detto in pochissimo tempo, neanche 3 minuti, un sacco di notizie interessanti. Ciao da Andrea D. Seloso, ciao ciao!